E cosa si aspetta da questo derby? Ci aspettiamo la vittoria, tutto il popolo reggino, i tifosi reggini aspettano la vittoria. Le ultime volte è andata bene, però quest'anno il Messina è forte, la regina... Il pre-campionato è andato bene. Pre-campionato, questo è il campionato però. Auguriamo che vinciamo come al solito, perché il Reggio è sempre la prima in assoluto rispetto al Messina. È stata ripescata, però ancora il corso non c'è la condizione, però speriamo bene, forse è regina. Uno a zero, io non ero tefoso di calcio, io avevo un altro sport, eppure vedendo che ora siamo anche saliti un po' di più, di andare bene, speriamo che vada bene con il campionato. Speriamo di saperle fare appello al nostro sentimento di regginità per portare avanti anche questa squadra e questa esperienza degli amici, praticamente come tutto il consiglio di amministrazione. Veramente un atto di dedizione verso la città, che dobbiamo apprezzare, dobbiamo ripartire da qui.